Ciao, sono Cristina e sono un medico specialista in ematologia. Il mio obiettivo sin dai tempi dell'università era quello di diventare una brava dottoressa. Oggi ho 32 anni e da 8 lavoro all'Istituto Seragnoli, dove come assegnista di ricerca, grazie anche al contributo essenziale di Bologna AIL, svolgo quella che considero prima di tutto una missione. Comunicare diagnosi difficili, impostare terapie adeguate, ma soprattutto condividere lunghi percorsi di sofferenza con chi si trova all'improvviso a dover fare i conti con il nemico più inaspettato e temibile, la leucemia. E per sconfiggerla servono tanto studio, competenze, unite a costanza, dedizione e professionalità, per poter vedere sempre più sorrisi nei volti di chi vuole vincere la sfida più importante della propria vita. E il 70% dei fondi destinati ogni anno da Bologna AIL è utilizzato per sostenere i nostri progetti di ricerca sui tumori del sangue. Sostienici!